Solidarietà piccante, un peperoncino per l'autismo. Questa è l'iniziativa organizzata dall'Associazione di Volontariato Una Breccia nel Muro, a cui si potrà aderire fino al 24 ottobre. Una campagna per sensibilizzare la società civile sul problema dell'autismo e raccogliere donazioni per il trattamento dei bambini autistici. 10 euro per contribuire alle cure dei bambini soggetti ad autismo. Come segno, in cambio, il donatore riceverà una piantina di peperoncino. Spiega il presidente di Una Breccia nel Muro, Alberto Zuliani, ex presidente Istat. Questa iniziativa si chiama Solidarietà piccante, un peperoncino per l'autismo. La facciamo da sei anni. Ci serve per intanto sensibilizzare la popolazione sulla problematica dell'autismo, che è una problematica, ai noi, molto seria e troppo poco conosciuta. E poi ci serve anche per raccogliere un po' di fondi e per fare trattamenti in solidarietà per i bambini autistici. Noi trattiamo bambini autistici su due centri, uno a Roma e uno a Salerno, che hanno età fra i 2 e i 12 anni. Perché per l'autismo, se si diagnostica precocemente e se si interviene immediatamente, le possibilità di successo aumentano fortemente. Cioè si riesce a dare a questi bambini, subito e poi anche in prospettiva, una vita di maggiore qualità, di migliore qualità, sia a loro sia alle loro famiglie. I volontari dell'associazione sono presenti nelle piazze di alcune città, in enti, uffici, circoli sportivi e supermercati, per promuovere la campagna che sosterrà nello specifico le cure offerte da una breccia nel muro nei suoi due centri, una a Roma e una a Salerno.